La mattina non hanno dormito, perché c'era anche il laboratorio, il workshop. Ieri sono stati tutti a questa bireria bavarese. A me piace molto questa diversità che abbiamo visto. E io credo che nel mondo del teatro è molto importante questa diversità. Un stato che è veramente stato molto pesante è una reazione di sinistra, un terrorismo che è sviluppato. E quando io sono stato giovane in Germania sono stato quasi disperato. Sono stato un studente di sociologia, pedagogia e nel mio circolo c'erano la gente, i giovani, che hanno deciso di fare questa lotta amata in quello che hanno pensato. E che fa un tedesco romantico che vuole assolutamente evitare violenza perché da sono nato mi fa paura che la gente può essere aggressiva e un tedesco romantico va in Italia. Così sono arrivato in 79 a Bologna, ancora peggio. Un gruppo che non conoscevo, lì in teatro, a Roma. Io sono stato molto interessato e sono anche là. Karin, mio partner e io, abbiamo iniziato la seconda carriera come filmmaker. E dopo Karin e io abbiamo fatto i primi film lunghi. Io ho detto a Karin adesso facciamo una cosa che non sarà facile, di fare un film con il living perché la vita di un artista può essere anche crudea. Ho nato con loro a Napoli, ho fatto le scene nel hotel di Antigone e poi sono rimasto per cinque anni nel living.